Avete passato bene il Natale? Vi siete rimpinzati ma avete già smaltito con una bella partita di padel? So che avete fatto entrambe le cose, per questo chiudiamo l'anno 2022 con il secondo video delle top 5 parlando delle pale di controllo. Come fatto per la top 5 delle pale di potenza, che vi lascio qui sopra, andate a recuperarlo se non lo avete visto, ho stilato la classifica basandomi come sempre solo su quelle che ho provato e testato, delle quali potete trovare le review tutte qui sul canale. Cosa? Non le avete viste? Primediate subitissimo iscrivendovi al canale e attivando la campanella per essere sempre avvisati sui nuovi video e fate già la vostra prima cosa giusta in vista del 2023. Fatto? Bravi! Ora possiamo partire con la top 5 delle pale di controllo. Al quinto posto la Wilson Blade Pro V2. È stata una pala di cui mi sono innamorato subito dal punto di vista estetico. Bellissima e di classe come si confà a un brand come Wilson. Uno stile unico che rapisce l'occhio. Va detto che non è necessariamente la pala più solida in assoluto e che dovete trattarla bene, ma una volta gestita con i dovuti modi ecco che avete una pala che ha una buonissima uscita di palla, ma inoltre trasmette una sensazione di comfort e maneggevolezza davvero immediate. La comodità di questa racchetta non l'ho trovata neanche in alcune di quelle che la precedono in questa classifica. Siccome ho diverse persone che l'hanno provata e ne sono rimaste contento, tutto questo è la conferma definitiva della bontà dell'attrezzo. È una palla con una superficie in fibra di carbonio e una gomma IVA Soft al suo interno. La forma è a lacrime e il bilanciamento è medio, perfettamente in linea con controllo e maneggevolezza. Una Quikma potrebbe stare bene in quasi tutte le classifiche. Questa ovviamente è una delle più votata al controllo di tutta la linea e il suo lavoro lo fa benissimo. Forse è l'unico difetto di essere un po' pesantuccia e perdere qualcosa in maneggevolezza, però perdona molto, permette di mettere la pallina sostanzialmente dove si vuole con un discreto film. Certo non potete aspettarvi la luna dal punto di vista della spinta, ma dall'altra parte c'è il solito plus del prezzo che fa prendere sempre l'ago della bilancia su Quikma, anche se forse, in realtà poco forse, lo scenario in futuro cambierà. È una palla di forma a goccia con un peso intorno ai 365 grammi, un bilanciamento medio e una gomma interna Soft Ava. Il nucleo esterno è un carbonio 12k intrecciato di alta qualità e il prezzo di listino di 99 euro unito al servizio di rental fornito da Decathlon sono le ciliegine sulla torta. Devo dire che la Nox Nerv World Paddle Tour è una delle racchette più apprezzate da chi segue questo canale. In tanti l'avete acquistata, l'avete provata e soprattutto vi siete trovati bene. È una racchetta polivalente che quindi risulta essere un buon mix tra potenza e controllo, ma proprio per questo il lato ottimo controllo assume un valore ancora più grande perché non penalizza dall'altra parte. Anche perché parliamo di una palla di forma a diamante con un peso che è più verso i 360 che i 370 grammi, un bilanciamento medio intorno ai 25,5 centimetri, un piatto in carbonio 18k e una gomma black da multistrato. Potremmo dire che come il nero sta bene un po' con tutto e non vi lascerà mai a piedi in nessun aspetto del gioco. Anche secondo me è un'ottima pala e anch'io mi sono trovato molto bene, quindi posso dire che gli utenti di questo canale hanno un buon gusto nella scegliere le palle. La Sioux SG Limited Edition è un'archetta un po' particolare perché la prima volta che colpirete la palla sembrerà quasi restituire un rumore cartonato, ma in realtà è solo un'impressione perché la palla di Sanio Guterres incarna perfettamente un po' della magia del campione argentino e chi gioca a destra si troverà sicuramente bene. Non vi so spiegare perché come dicevo nella comparazione tra questa e l'Electra che ho fatto su Instagram, la qualità costruttiva sembra meno solida rispetto alla stupa, però a me ha lasciato un feeling ottimo sul controllo facendomi mandare la pallina davvero dove volesse. È una palla di forma ibrida con un peso intorno ai 365 grammi e un bilanciamento medio a 25 cm. Il piatto è in carbonio 18k ma completamente liscio, mentre la gomma è una Black Eva Ultra Soft. Forse sono stato rapito dal sound che rilascia da ogni colpo, che è davvero bellissimo. Lo sapete quanto abbia apprezzato la bulpà dell'Ionic Control che, se mettiamo tutto assieme tra resa, materiali, prezzo e feeling, è insinacabilmente la miglior pala di controllo che abbia provato nel 2022. È un vero e proprio guanto, mi ha permesso di giocare cicchite, lob e colpi di precisione senza al minimo sforzo. Se siete giocatori di destra e non amate particolarmente spingere ogni pallina, potreste essere rapiti da questa racchetta, con anche il plus di non dare assolutamente fondo al vostro portafogli, che con gli ultimi chiari di luna non è così scontato. Anche di questa racchetta mi avete scritto in diversi e chi l'ha acquistata si è trovato benissimo, quindi mi fa molto piacere la cosa, anche perché questo canale serve soprattutto per farvi scegliere al meglio la racchetta per voi e magari, perché no, farvi risparmiare pure qualcosa. Questa era la mia top 5 delle pale di controllo provate nel 2022, ma voglio sapere qual è, secondo il vostro pensiero, la miglior pala di controllo di quest'anno. Scrivetelo nei commenti e spiegatemi perché è il top per il vostro gioco. Questo aiuterà tanti di voi che stanno cercando la racchetta giusta per loro. Siamo arrivati alla fine di questo 2022 anche per Simone Mazzola Padel & Tech, il primo anno completo e molto orientato sul padel. Io vi ringrazio, vi auguro un buon anno nuovo e come sempre vi attendo qui per un prossimo video e, se avete domande, mandatemene con un remate. Oggi, grazie a tutti i nostri amici.